Oh cazzo, mi sono riscordato! Oh, per la patria! Oh, oh, oh! Sì! Sì, vai! Oh mio Dio! Questo è un griffing assolutamente legit. L'obiettivo del faction è quello di essere superiori a tutte le altre fazioni presenti sul server. Se in caso la vostra fazione fosse griffata da noi, ci dispiace ma non possiamo farci nulla. In ogni modo ci scusiamo assolutamente per i ragazzi griffati. E che dire, vi aspettiamo! Benvenuti in questo video! E oggi siamo qua in un episodio davvero particolare perché in questo episodio finalmente andremo a griffare la nostra prima fazione in questo server. Come sempre vi invito al lasciare il pollice in su e arriviamo almeno a 600 like per un altro episodio di griffing su Minecraft. Essendo che noi amiamo griffare e spero che voi che siete anche adesso in questo episodio a voi piace griffare. Perché a chi è che non piace griffare, voglio dire? A me... Buongiorno! Siamo in compagnia con Omega e Ricky. E inoltre vi invito ad entrare nel server, in questo server qua, dove appunto noi costruiamo, facciamo la nostra fazione, griffiamo e tutto il resto. Allora ragazzi, qua siamo nell'entrata della fazione che dobbiamo griffare. Poi vi spiegheremo dopo come l'abbiamo trovata. Comunque adesso devo fare una piccola affermazione. Ci sono troppi alberi! Questa è la tua affermazione. Comunque come vi ha detto Omega praticamente questa è l'entrata di una fazione. Dove noi abbiamo trovato, grazie alla fmap che è praticamente fatta slash fmap on e praticamente vi attiva la mappa delle fazioni. E voi vedete tutti i chunk claimati. Noi abbiamo visto quei chunk claimati da altre fazioni. E grazie a questo siamo riusciti a scovare questa fazione che sta sotto terra. Abbiamo fatto questo cunicolo che non c'era, non è della fazione perché se no sarebbero troppo stupidi da farci l'entrata davanti. Ma l'abbiamo fatto noi proprio per darci un minimo di aiuto per entrare. Il bello è che questa fazione non ha assolutamente niente di protetto come sidiane e acqua. Quindi siamo assolutamente a posto. Ovviamente noi ci muniamo di TNT e tutta quest'altra roba per renderci la vita facile. E adesso passiamo la linea al telegiornale, grazie. C'è un bastardo. Raga possiamo entrare, possiamo entrare, voglio entrare, voglio entrare. Quindi inauguriamo questo santuario per il nome del Gripping. Ma quante tonsille hai fatto fuori per fare questa cosa? Siamo pronti raga, mi raccomando. C'è Oliver! Come non detto, entriamo! Perfetto, siamo dentro, siamo dentro. Ok, dobbiamo andare adesso nella caverna, siamo già nelle caverne. Adesso, praticamente questa parte c'è la fazione, proprio qua. Ma qua sotto è tutta la fazione, questa roba di Sidiana? Sì, sì, sì. Allora qua dobbiamo spaccare questo o lo dobbiamo tenere? Non mi ricordo. No, 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 qua ci penso io raga, tranquilli. Noi praticamente avevamo già preparato tutto ciò che era necessario, ovvero il cannone. Perché proprio qua davanti c'è la nostra benedettissima fazione. E adesso noi basta che facciamo in questa maniera, signori miei. No, 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 che cazzo stai facendo? Giusto, giusto, giusto. Dai mi serve l'accelino raga, mi serve l'accelino, accelino. Ma no, ce l'ho io. Dammi a me, dammi a me, dammi a me. Ma che scommetti che è sbagliato? No, 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 assolutamente non l'ho sbagliato. E raga ricordatevi che ho detto che è sbagliato. Se esplode qualcosa di male... Aspetta, aspetta, deve funzionare, ok? Deve funzionare. Un attimo, raga avete una crassi in quella? Raga, non ci siamo portati una crassi in te. Avete legno, raga? Palla, palla, palla. Vabbè che la posso fare? Ma basta che non scoppi. Ma scusa, ma dov'è? Aspetta un attimo. È qua sotto, raga, è. Vabbè, va bene, va bene. Allora devi caricare di più. Vi posso far vedere? Cioè, provo a farne una io per me. One second. One second. Beach. One second, raga. Beach. Questo è quello all'antica. Ah, ok, all'antica. All'antica cosa? Ok, la leva scoppia, tutto scoppia qua. Anche la... Che cazzo avevo detto? Oh! Dai, raga, siamo sempre più vicini, raga. Dai, ci possiamo non riuscire. Io, ma però il vecchio metodo funziona. Vabbè? Ma guarda che minchione! Rikino! Rikino! Ok, che ho fatto se... Devo farlo ancora? Eh sì, è abbastanza. Cinquanta... No, aspetta un attimo. Dice, oh, mi ha captato qualcosa con il suo F3. Cinqua. Oh, di qua, di qua, di qua, aspetta. Ma siete sicuri che è di là? Oh, entity mi dice entity 20, 20 qua. No, 40 entità di qua. Ma di qua? Qua 40 entità. Ok, allora fermo. Sposto. E poi ci sono stati tutti i neri. Raga, poi le avete le uova. Sì, di creeper. Ah, vero, raga? Perché voi dovete sapere che qua c'è il kit. City creeper praticamente ti dà la TNT, poi ti dà le uova di creeper che ti permette di spawnarle nel... Ah! Ma raga, ma c'è l'ossidiana. Raga, premette F3 più A. Se vedete, vi dica lì che c'è anche ogni volta. Aspetta, io sto vedendo davanti a me che c'è... Vedo con... Che delle mucche. Un po' raga, sono qua, tipo qua. Qua a fianco ci sono delle... Delle torce. Riki, dobbiamo entrare dentro questo era un golem, perché qua dentro ci sono gli era un golem. E spara là. Ok. F3 più A. Ci carica i chunk. Non ne possiamo vedere altra vez' i chunk. Proprio le fiamme delle torce. Vai, vai. Accendo. Accendo i cosi davanti. Oh! 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 No, c'è la lava di merda! Eh, raga, dobbiamo cercare di farla arrivare qua sopra. Oh, no. Ma sempre lava. Oh, oh! Ok, perfetto, raga. Raga, abbiamo... Ci siamo riusciti. Perfetto, perfetto. Ora possiamo farlo. Minchia che culo. Minchia che culo. Non so come è successo, però è seccata l'ossidiana là. Raga, ci riusciamo, perché la TNT va a cadere qua. E lei esplode qua, raga. Quindi ci riusciamo. Per la patria! Raga! Oh! Ok! Ok! Vai! Ok, ok, ok. Ok. Eh sì, raga, tipo due blocchi ci sono di spessore ancora. Sì, raga! Uno solo ce ne manca, raga. Raga, sono quattro perfette. Me ne serve un'altra in più di bomba. Oh, cazzo, mi sono riscordato! Oh, per la patria! Oh, oh, oh! Sì! Oh, mangiate le colte napple, mangiate le colte napple. Ve ne do, ve ne do. Come faccio me lo sciamo a me. Eh, con un salto, dai, dai, parkour, 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 dai, ci sono riuscito, raga. Dai, vi aspetto. Dai, io non ci riesco. Ma paricato, no, dai, ora che siamo nel più... Raga, c'è un diamante già qua così. Ora, con le uova dai creeper, possiamo griffare. Prendere le cose dalle... Raga? ...dalle time frame. No. Oh, cazzo. Dove hai fatto esplodere? Perfetto, perfetto, perfetto. Raga, 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 qua sono le ceste, venite, venite. Dai, raga. Eh, sì, sì. Facile, cazzo, due ceste. Ah, oh, ragazzi, riusci. Finale, finale. Sì! Oh! Sì! Bordello, 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 forci, sì! Oh! Sì! Oh, mio Dio! Oh, ci portalo, perfetto. Che bello, amo questo server. Ma raga, ma sono cose un po' starcere e pro. Protection 4. Sì, sì, ci sono. Protection 5. Raga, ci deve avere altre uova di creeper? No, raga, fighissimo. Oh, mamma mia, gli uomini creeper. No, gli uomini creeper, non l'avrei mai detto. Esatto. Mi faccio, come faccio gli ex? E i soldi? Ok, raga, e dobbiamo fare esplodere altre. Cosa è questo? Dobbiamo vedere altre, altre ceste. Raga, altre ceste per se preziose. Raga, qua sotto c'è un libro, tipo. Raga, i libri dobbiamo prendere. Allora, accolto, raga. Raga, dovete prendere tutte le armature e magari distruggerle se le avete. c'è roba e si può evita allora facciamo a vedere raga il kit legend perché kit legge andando le cose figa raga le uova di creeper ci servono vedo qua sono adesso ci sono di uova di creeper o mio dio raga questi qua hanno fatto un casino che figo ragazzi sono messi benissimo anche noi a i libri non riusciamo c'eriva i libri si faccia scoppiare a posto vendete i libri è comunque non c'è più nulla raga ragazze anti situazione o di riuscire a te riuscire a te lo raga in caso dobbiamo ucciderlo a malamente così così togliamo in power a raghella e la e la raga uccidete riuscire a te lo uccidete la raga dai 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 alziamo il raga alziamolo ci riusciremo con la nostra forza e quanta ragazzi io che dire io spero che il video vi sia piaciuto è stato di vostro credimento lasciatemi un like o anche un commento qua sotto per dirmi se volete altri di questi video da griffing che a me ci sono piaciuti davvero tanto e soprattutto spero che poi vi sono gli sti siano anche piaciuti e più che altro poi se becchiamo le nostre fazioni le distruggiamo non fate i bambini tavernello server faccio non sono fatte apposta per andare a griffare e cercare di ambientare le fazioni amici per salire diciamo al trono del server no come può succedere a voi può succedere altra gente oppure potete anche voi andarci a griffare a noi però è bello a trovarci questo è il server se volete andarci a ospitare questo è il server lasciate almeno 600 like per questa incredibile vittoria condividete questo video a chiunque ami le fazioni e noi ci vediamo in un prossimo stevitoso incredibile video ciao ci si becca iscriviti al canale